bisogna aspettare qualche altro annetto poi salirà beh sicuramente il Wii U non varrà un cazzo quello sono abbastanza sicuro con tante pop in venduta immagino 3DS invece abbiamo visto che vale un botto penso si trovi facendo 3DS vale non lo sapevo eh sì infatti negli ultimi mesi abbiamo giocato a Mario Kart 7 che hanno chiuso i server e eravamo un po' disperati a cercare qualcosa per streammare e non ce l'abbiamo fatta cioè Wareth ne ha preso uno tipo da un pescivendolo francese che puzzava di pesce per salvare le gesta di Mene no non vedo un cazzo non sa quanto varrà allora il mio 3DS che c'ho il new quello della versione ambassador che l'hanno fatto ah minchia potevi dircelo prima cazzo da chi c'è eravamo disperati a cercare qualcosa anche c'ho l'applicazione ambassador che dice grazie per aver comprato il 3DS ma ambassador che cazzo era il primo? no no eh sì era la prima versione del new 3DS ah del new 3DS che dovevi venire selezionato via mail ce n'erano solo ah allora no quello non ce l'ho io eh ce n'erano solo pochi che venivano selezionati e poi costava tipo un occhio della testa comunque ma quello coi giochi GBA però aspetta i giochi GBA li avevo anch'io nonno no 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 quella è un'altra cosa quello sì quello era il programma ambasciatori del primo 3DS per chi ha pagato 3DS a pieno prezzo prima del taglio ah già eh sì è vero io l'avevo preso subito perché si sono resi conto che costava troppo vabbè però cazzo new era quello che serviva a noi no per streammare o no non mi ricordo cosa aveva preso Juarez? qualcuno si ricorda? qualcuno che stava giocando a Mario Kart in ultimi mesi? no no cosa aveva preso Juarez? tu che avevi fatto tutte le hack con Kamek ma vedi 99.2 minchia non è vero è vero 99.2 ma che può valere sono curioso di vedere su ebay adesso più che altro quelli venduti non quelli che stanno lì in attesa di essere venduti che c'è sempre gente che spara cifre astronomiche se li trovi perché almeno lì aprile cos'era da dicembre ad aprile non trovavamo un cazzo noi a prezzi oddio a prezzi decenti allora oggetti venduti dipende dall'altezza del personaggio più o meno si e invece è questo ma la nuvola quella grossa Ness però non so se Walluigi è più alto no ammetto di non ricordarmi che dovevo prendere più pensavo di dover solo ah ah ok eh però non so se Walluigi mi è sembrato un po' piegato strano Walluigi perché tipo con Rosalina so che devi toccare la nuvola col martello però gli altri personaggi non lo so ecco vedo che completo di scatola e tutto vale fra i... viene venduto fra i 500 e i 700 euro eh sì eh sì era come quando riguardavamo noi ecco Warz no voleva disegnare Warz vabbè ma Warz è il best artist il unico che sa disegnare qui oh madonna ho fatto uno schifo oh madonna dove sono andato vabbè che schifo madonna non l'ho mai fatto così male sto gioco lo rigattimo non mi salto a tezzo no pari ma come? io ho sbagliato tutto eh sì ne pensi che tu sei nella riga tutta storta però vabbè eh 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 questo è bellissimo dovrei installare e mettere cose per bene ma poi poi di quei server là non si ho più detto niente cioè io è bello che quando era morto il gioco ho detto vabbè ma stasera siamo già su Molire selo è nonVo capito che eh eh però io non ho ascoltato la Mod ha già c'era la Mod siamo troppo pigri però sì sì basta seguire la guida de Warz Ma si capisce qualcosa dalla guida di War, eh? Ah no, sì sì, è un altro sito, non l'ha scritto a lui. Ah, l'ha copiato, allora mi fido. 15, beh, ero sicuro. Ah, adesso prende 20 monete e danno buona solda, diciamo. Eh, effettivamente, eh, non ci sono. No, non ci sono. Poteva essere. Quindi anche se vince il minigioco non ha soldi dopo. Eh, a meno che non sia un caos monetario. Ci sono video che fanno passo passo come promuovendo in cinque anni? No, non stai sopravvalutando le mie capacità, veramente. Non pensare che io sia Michael Scott. Ma l'ho fatto apposta, raga, così, è il bonus della vittoria. Bowser al secondo turno è la cosa migliore. Visto qua. Eh, insomma. Eh, è la cosa più cattiva che si poteva fare. Ah beh, è il secondo turno. Sì, sì. Però c'è il negozio davanti. È quella, la voglia. Intanto non c'è la stella qua. Farm oggetti, uso oggetti. E poi ci pensiamo dopo. Sì, contro te. Parli con uno che doveva seguirti su Splatoon. Beh, però lì poteva esserci un po' di... Non conoscevi la pista, toh. Oddio, com'era? Ah, ok. 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 Madonna De Santis, cioè devo farmi placare da sto obeso? Eh, che cattissima. Madonna Ness, Ness veramente mi... e poi grazie un po' di... un po' di... Il braccio... Eh, schi voti su Splatoon. Ma sei indeciso? Sì, hai tentato per il presente. Ma prima pensiamo, tanto facciamo la pasta e poi ci pensiamo. Devo dire che a me come tema passato è quello che mi piace di più, però non mi piacciono tanto loro, prefesco gli altri gruppi, e non mi piacciono neanche gli outfit che li hanno messo, cioè non saranno tipo dei sacchi. Oh che bello! Vabbè, andiamo infatti. No, il mio bonus! Tanto non ho tante monete. Ah, vabbè, tecnicamente se perdo le ho perse tutte, però... Uff, questo è bello! Ah, ecco, questo c'ho zero win rate. Ah, poi guarda, ho visto che era una truffa quello che avevo detto del coso dei Goomba, perché non era la prima volta che lo perdevo, però c'ho 100% un bug allora. Forse 100% offline, online... No, offline non ho mai giocato, non ho mai fatto una partita offline, quindi... Cosa vuole De Santis? Eh minchia, De Santis! Dai il posta sulla di ca... Cazzo, però no, dai! Ero chiusissimo! Cazzo, io non ho neanche soldi per il negozio adesso, che palle! Non sapevo quando dovevo giocare stasera. E infatti questa è stata terribile. Non mi sto divertendo affatto. Non so. Sapevo che facevamo, non stavo a perdirlo. Adesso c'è ancora un po' di sopoto. Oh, bene bene! Almeno un po' di sopoto. Eh sì! Adesso fa 10. Eh certo, devi pagare tutte le monete che hai, se vuoi andare di là. Ma raga, vi siete scordati come si gioca a sta pista? Non ho capito perché siete andati tutti durissimi di là subito. Ah no, è vero, 16 poi oltretutto. Ah no, ma lo so, quello... Però oltretutto lui non poteva neanche andare, ma che ci penso perché doveva pagare 16 almeno. Esatto, sì. Oh! Ha fatto rumore? Eh sì, ha fatto rumore! Taki ci spoilerà tutto però! Ci stai rovinando la puntata! Oh, ottimo! E mettete l'audio anche voi! Eh, ma devi lasciare un po' di suspense almeno agli spettatori. C'è nonno che è seduto sul divano che sta dormendo. Eh, questo è vero. Ah, questo è una galena. Buono slogan o buono bond? Bonda Bonda non è... Ah, questo... Devo solo muovere, ok. Sì, bisogna illuminare. Eh, però Warz mi sa che non ha capito cosa bisogna fare. Perché lo dico? Non bisogna fare un fusionario perché ti dà... Non bisogna fare un fusionario perché ti dà... Ti dà i colori... Delle luci diverse da quelli che sono... Se diciamo può comprare... Può comprare la stella. Se diciamo. Quindi bisogna sabotare Warz. Beh, io voglio i soldi. A me non me ne fotto perché... È figlia la stasera. No, 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 no. Beh, se vuoi sabotare Ernest puoi sabotare anche da solo, eh. Bisogna colpirlo in tre. Un po' dove sei un po' poi. Ah, ma io sono al blu, ecco. Mi sono già confuso. Ok. No, no, no. Beh, poi l'isci ne danno, no? Minchia.. Guarda, sta scritto qualcosa di da? Oh. No. Alcuno evochi Warth sul Discord. Cosa ha scritto? Niente, infatti. E cosa evochiamo? Oh no! Quattro attacche, ma no, non so che è andato. Adesso vado di nuovo giù, no. Non c'è uno stickera che lo indica con il dito? Ci diamo. Questo è un pugno. Eh beh, non controllo il gesto. Secondo me dovevi farlo anche tu, eh? Non ho messo. Perché mi devo rovinare il perro? Anche perché non penso che puoi evitare che te ne tolga tre. Quattro attacchiamo il pugno. Quattro attacchiamo il pugno. Voi non c'eravate prima, sto giocando con le luci spente per risparmiare sulla bolletta, quindi più povertà di così proprio non si può. Quattro attacchiamo il pugno. Ok, io spero andare a bonze, se faccio sette, otto. Dai, vediamo. Ok, io ci sporo, aspetta. Però devo venire nel mini gioco dopo. E io faccio anche la vera. E io faccio anche la vera. un po' oltre il trasporto. Cos'è quello dell'arco? Sì. Molto carino. Anche se puoi essere sabotato dal computer. Penso che sei l'unico fan di questo gioco. Ma a me piace. Sarà che viene dal 2. Devo scappare. Sì. Vai, no! Adesso sì. Per ultimo giusto, proprio quello che volevo. Adesso lo chiudo. No, lo stanno aiutando. Gli sta spingendo lui. Qua non è la finta. Non è la finta. Ai ai ai. Troppo lento. No, mi devono anche dare il soldo con la stella. No, toccolo. Sì. Nuhò. Nuhò... Oh! Sì Beh, questo è un po' che indicano Però non si capisce E poi no, 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 non è un bullo Non lo so Dovrebbe esserlo con un guard Lo spedisce in Canada Ah, non pensa guard Sì, da subito Eh, che deve pensare Cominciano a delinearsi una stella meno passi Non è male male però Poi Si è fatto il tele qua Oh, vado da Rael Eh, sì, siete proprio vicini Eh, siamo praticamente la dieta Sono da Wares Devo pagare il phone Quindi vabbè Un troppo Fai, fai Versus Oh, vabbè No, no, chiede che sono Eh, questo mi piace Questo è veramente bello Che sono io Se sei un bullo, nonno Ah, poi lì Picchieresti Wares anche tu Non lo so Perché hai un rapporto di amore e odio con Wares Però quando ti ricordi che è successo in Canada Allora penso che partono le botte A dove cazzo va? No, come aveva fai fiato No, fermatelo, fermatelo No, vabbè, non mi ha cagato di striscio sta partita No, no, no No, comunque la hitbox fa sulla cazzo Io ero convinto di averla presa Ci ha messo la mano da sopra E vabbè Ma cosa? No, ma non ci credo Ma cos'è? Vabbè, è una verde comunque Ah, ok, guarda Mesh, mesh Mesh Per un attimo ho pensato Volesse pagare 22 monete Per andare di là Ma cazzo sto seconda adesso Ok, potevo luppare la cosa dell'item bag Ne ho? 30 Beh, potrei farmi una rossa Però poi devo tirare bene Cioè non devo fare uno, vabbè Ah, no, vabbè Perché dice Eh, però quanti turni passano poi Che se mi faccio la verde Dov'è la strada che io vabbè Però è una verde E rimango su pochi passi Cioè È una win con di merda Ma Adesso puoi trovare un bel voart Esatto, però ho due Due su tre Che Eh, donno Ah, io non ho il microfono Mi sono reso conto Vabbè, ok Ti è andata benissimo Di nuovo Vabbè, sì, era al 66% Oh, povero Si va Si va bilanciando la situazione stelle Allora Nascondì Non si può comunicare con guard Eh, vabbè No, non si può comunicare 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 Eh, vedi Adesso Un pitt Unter Eh, vabbè D'abbè L'abbiamo giocato In modo genuino Per una volta Eh, non ho lasciato così che non so sicuro niente io dove sono Vabbè, tanto Svizzarò o piangerò anche Lo scopriremo Vediamo Live Sì Eh, vabbè Eh, vabbè Allora, adesso l'obiettivo è il negozio Ah, quindi No, no, non vado sull'evento No, fa lo genio Ah, ho letto uno Mi sembrava uno Eh, io devo sopravvivere dei turni così Devo sperare non ci vada Juarez E Juarez, quindi succederà, no? Ottimo, questo volevo Ah, vabbè Ah, vabbè Ah, vabbè Ah, vabbè Ah José Nelno di alcuni ziggio stavo muovendo Wara Eh, molto social Ah 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 Ehm, vabbè Vediamo se c'è parte Non me lo basta Basta, vabbè C'è la item bow Eh, non me lo vediamo Eh sì, è un blocco del suo spot Ah, beh Eh, non male Siamo contento Nooooo Oh, io ho sistemato Ho sistemato il Joy-Con che driftava Adesso sto pensando a me Ah, quindi stai giocando coi Joy-Con? No Joy-Con Scusa, volevo dire il Ah, il pen L'analogico del pro controller Sì, sì, sì Qualcuno deve sistemare il modem però Che bello, ma ha driftato uguale, porco due No, ma la paura è laggata Sta laggando un sacco Sì Eh No, ma non è lagga da morire, su, cazzo Nooo Sì, ma, no, non è possibile Non mi torna dentro Ma cos'è, dai, non mi è mai ritornato dentro Bo, laggava tantissimo, eh Eh E lasciavo Mi restava con la testa forte Tre volte Guarda che sta iniziando a giocare col tastino del modem, forse Sì, anche secondo me Ha visto che è ultimo e al quinto turno ha detto Ah no, ottavo turno, mamma mia Come vola il tempo quando ci si diverte Sì, poi questo è un altro percorso dove vanno abbastanza velocemente i turni Sì, questa era la seconda più veloce Eh, contatta che C'è Wareth C'è Wareth che non sta perdendo tre ore a guardare la mappa anche senza oggetti Beh, al fungo però, effettivamente Dai, un po' sembra che lo sto indicando, no? Ziben Ah, posso farmi il Bowser della vittoria? E dai, no Oh Oh Oh, ci perdo però, vabbè Eh, anch'io Un cinquato, forse non quello che ne ha di più Grazie Grazie Vigliate sti spicci, Wareth Eh sì, ci ho perso, vabbè No Non dobbiamo scintare niente Oh No L'ha detto un po' di cinquanta due Mi danno più sotto No Oh Tante uno, cosa, tre volte? Sì Sì Tante uno conosce tre volte Sì Mmh Ciao, mi sono incastato all'interno e non sono riuscito a scendere. Maledetto peso, come fa a essere così agile? Fa un po' un pesto il gioco per correre da solo perché i due blocchi la vicini... Eh, ma dipende la formazione, se ti dà il blocco lì in mezzo senza niente, che cazzo fai? Girino intorno. Ah, però se Warez fa 50 monete mi roba la stella. E vai! Ah, non morì, no? Sì. Aspetta, cosa uscirà? Oh, come... Pure po'. Eh, più o meno, avevo perso 8 monete, 7 ne ho riprese, quindi vabbè. Oh, no, c'è un Bowser. Ah, questo è cattivo qua. Si ruba il soldi e non può rubare. C'è altro che potrebbe non rubare. Eh, deve uscire di tipo minigioco Bowser e non... non perde. Esatto. C'è anche un sciacqua. Vabbè, a me va bene, tanto la prendeva a me sicuro. Ah... C'è anche un sciacqua. Oh! a 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 questo è carino però non mi ricordo bene i tempi io quello più difficile che devo dartela devo infatti faccio un po di pratica for one a a no ok 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 ah 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 Non posso mesciare, sì. Oh, guarda, un po' tutt'anni dalla tua età. ottimo che come fa la posa di trump ragazzi avete visto alza il pugno come trump ecco l'orecchio sanguinato eh vabbè dai pareggia il mio bonus boh ma che palle raga c'è figa quando faccio queste cose però non buttatevi tutti sopra subito ma io non è che ci vuole andare fortuna che ancora non è l'undicesimo turno no ma che cazzo è pesantissimo dai c'era anche revolution però ci avrei perso di nuovo mi sa ah no non pensavo di averne di più e ho comprato del soldato chi lo sarà ma lui è sempre la mera che non avete capito cioè ormai guarda su usare questa cosa per per sfogarsi sul bullismo che subito e invece tocca mesciare a me due voi adesso saluta è la minchia aia mamma mia io ho fatto 4 bar ma qualche volta se ti vuole rubare ti ruba anche se me scita o potresti ribaltare la situazione ness è la scena di fantozzi con robin un ecco ve lo guardano tutti proprio bullismo stasce un po povero però effettivamente guarda invece che mesciare subito che usciva subito 10 df o no no le talpe le scuola non lo so è questo quando ti si incastrano tutti davanti non passi presi deve essere un po fortuna che ce l'hai sopra ma è testo un poco reattivo quando la nuvola è però sai tieni gli occhi sulla nuvola e intanto la gente si accumula lì e quindi senza rendertene conto sei fuori madonna mi state spingendo dentro l'età alta però che che le amo ma è continuata a spingere io non sto andando contro l'età per mi spingete voi e io ho fatto un malino forse sarò lo terzo secondo ho visto un guarda su un sacco sotto la nuvola e invece di mo ma non io ai all'inizio ho fatto malissimo vabbè a me sembrava addirittura di essere andato un po sotto la nuvola invece di buono buono dopo la punizione almeno ciò riguadagnato beh se ho 10 rip che devo dire ok va benissimo benissimo sono secondo fai versus di nuovo e ti va benissimo non hai neanche soldi rollalo bene non hai neanche soldi ciò riguadagnato non hai neanche soldi un uccolo non hai neanche soldi oh no la scuola Ah, spingiamo l'ultimo. Ok. Ah, ma De Santis, raga, aiuto, toglietemi De Santis. Ah, aspetta, aspetta. Dai, vai, sforzati, sforzati. E come faccio a spostarlo? No! De Santis ha una tech, ragazzi, madonna. Eh, pure. No. De Santis fa la passive fist run. No, no, no. Va bene, fa bene, raga, raga, sta tech. Però poi deve attaccare in qualche modo. Eh, è troppo contabile. Eh, no, invece, madonna, l'aveva outmashato. Eh, perché è vero, se riesci a star su, vince anche lui, quindi... No, mi sa che ha perso lo ritmo, no? Mi sa che ha perso lo ritmo, no? Mi sa che ha perso lo ritmo lo ritmo. No? No! Ma lo stavo accadendo! Ma lo stavo accadendo! Eh, raga, la passive fist run è una strada. Eh, no, effettivamente mi stava dietro e non potevo toccarlo, non ci avevo pensato. Vabbè. Minchia, che parlo, ho perso i 7 miliardi di soldi in sti giochi di merda, vabbè. Ma è una gioia a sto gioco, figa? Sì, prendiamoci. No, mi siamo a dire giochi da soldi, però. Oh no. Devo fare del cash. Io vorrei tirarla in faccia dei santi, sta palla qua. Eh no, più a sinistra di così non va. No, ma che gol, guarda. Che cucchiaio! Ma quelli qua hanno anche come la stessa hitbox di tipo Warwick. Sì. Minchia, ci sta prendo. Minchia, what the fuck? Ma cazzo l'ho perso sto gioco? Madonna. Stavo pure pensando... Ma infatti, ci ho detto, vabbè, mi faccio un po' di soldi. No, l'ho detto, cioè, ma è una gioia, veramente. Anche il gioco automatico lo perdono, non ho parole. Ah, era pure dopo! No, vabbè, raga, ma che in culo... Lo sentivo che stasera non dovevo giocare, cioè... Beh, hai giocato ancora. C'era nessun zutting forte e ho detto, vabbè, non si gioca, ma vado a letto. Vabbè. Ah, adesso c'è il tubo qua. Ah, ma sono ancora preso indietro, pensavo di aver già superato la stella. Ah, ma io non capisco niente. Eh, infatti. Ah, ma ce l'abbiamo! Vediamo se si sente. Ma io non capisco niente. Ma io non capisco niente! Col flauto. Esattamente. No, cosa sto facendo? Ha comprato un tubo. di un'altra, per favore. Ah, 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 ah. Oh, no! Ah, 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 ah. Ah! 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 Ah ah! 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 Ah ah ah! Beh, non hai fretta di reversarlo, quindi... Beh, perché no? Comunque il Warped Up se poi me lo ri-reversa, no? Io mi faccio una verde... No, ok... Ficcherai ad ottenere la moneta, però... Eh, vabbè... No, sicuro, sicuro, cioè... Io quando le cose possono andare male vanno male, fisso... Potrei fare il cattivo e fare tre, ma... Per fare l'evento, ma... Ti tento sportere, sì... Si, volendo mi posso teleportare via... Vabbè, è uscito lo stizio, ma... Eh, no, l'ho detto, l'ho detto... Quando le cose possono andare male vanno male, così... È la mia vita, ragazzi, se la vi... Uh, vai! Prendiamo quella moneta... No, ma non escono sti cazzo di giochi da moneta... Cioè, è pazzesco... È veramente pazzesco... Ah, questo è il pallone da piedi da piedi... Dai, dai! Beh, lui era anche quello del calcio e è finito bene... E lui era anche quello delle talpe e ha vinto, quindi... Non è stato il fondo... Un po' è stato in più, lei fa la buona... Uccidi Warez! Uccidilo! Fallo esplodere! Madonna! Eh, questo è proprio difficoltà... Sui, questo... Pardon, Warez... Poi è veramente la prima volta che lo rigioco da due anni... Non mi era mai capitato... Siamo tutti... Arrugginiti! Sì... Boh, il mio shallow basta, come sempre... Finché funziona... Let's go! Rossa? Eh sì... Che precisione! Oh! Usa qualcuno! Ma l'avrò usato... Eh sì... Che precisione! Che precisione! Che precisione! Ah, ma gli ha detto anche no... Prima eh... Infatti non mi eravamo capendo... Beh, che saldai qua... Questo è proprio un che saldai... Ho dei warp di merda proprio... Tutti di merda... Eh, fai... Ti scambi con Warez così il turno dopo... Cosa? Ti ruba la stella... Se col warp ti va bene... Sì... Ma io non posso rubare la stella... Mi metto... Io non voglio stare nel loop a destra... Io voglio stare qua che ci sono i tuvi... Guarda di là... Cazzo fa... Ma che c'è... Vo... 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 Cioè... Ness... Anche dopo... Dopo il kit... Cioè... Veramente raga... Io non ho parole... Ma c'è un esame clinico per la sfiga... Non è possibile! Bo... Sai cosa uccidimi? Vaffanculo... Sto gioco... E tutto ciò che è nato da sto gioco... E mi da pure l'opzione peggiore ovviamente... Neanche il dado... Chiaro... Zappa... Zappa... Purtro... Zappa... Zappa... Purtro... Zappa... quante opzioni vabbè la peggiore forse ma ancora chi sa che che mind games farà warrett stare fermo beh in quello del paladineare gli esser vinto e quindi non stava proprio fermo ci stava dietro la applicazione io ho detto sto un po in alto che così non ci scontriamo è ma io stavo guardando 3 proprio notato che no perché l'altra volta avevamo perso perché continuo a scontrarmi contro i miei e allora ho detto meglio stare tutti distanziati è ma infatti è quella la cosa giusta gestire il territorio e adesso lancio è bruttino c'erano 55 50 50 però io faccio una cosa dopo non posso rubare Rapper, pochissimo! Ma stiamo deridendo? Oh, vabbè! Vabbè! Intanto io ero già pronto, quindi... Random o non random? Hm, bene. Premi, Waris! Premi là! Ma magari sta tagliando i fili? Oh, ok, ce l'ho fatta. Vabbè! Eh, questo mi piace! Tu dirai, vuoi tentare il teleport? Beh, no, c'ho Keef davanti. Poi chi c'è lì? C'è solo da Keef, no? Sì. Eh sì. No. Adesso dov'è? Ma no, adesso ha due passi da me, guarda, sei in un punto di merda, no? Nooo! Ma tanto puoi andare al negozio, quindi devo andare di qua per fuori. Ma no, non è un punto di merda. Di da. Ma no, non è un punto di merda. Presidente? Bowser? No. No, è qua. L'avevo visto esitare, quindi pensavo fosse per quello. Continua ad esitare. Questo è quello di... All'arrembaggio. Ah, sì. Mi ha rembutto tutto e si era spollegato tutto. Eh... Ho preso che si... Eh, esatto. No, cazzo! Minchia! Tutte e due con un colpo solo. Eh sì. Sì. Io ero tranquillo a guardare le mie ombre mentre quelli saltavano. Tadadam! Tadam! Tadam! A me questo cambia tanto 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 perché... Vabbè, potevo forse anche rubare col bù, se vincevo. Eh, ho comunque possibilità di farlo dopo. Ma poi su che finisco? No, sulla verde no. No, una blusa. Quella è dopo. Ok. Oh, benissimo! Oh no, la rimuola. Ma che culo figa! Cioè, ma che cazzo! Vabbè. No, io non ho parole, cioè ne ha già presi due, non lo so. No, non è stato buon negozio. No, non è stato buon negozio. No, non è stato buon negozio. Ok. Teda fifteen. si e poi uno finalmente inizia ad ingranare qualcosa, se non farò 20 monete neanche a pagarla ah, adesso devi fare tu una moneta ah, questo faccio pagare, arrivo ultimo sicuro a questo, quindi penso che ce l'hai guarda, sta la banda io su questo ero un gamba, ma è uno di quelli su cui sono arrugginitissimo no, però qua proprio, ecco, sono giocato tutta la terza, qua avevo proprio 0% di minirate eh, l'ho detto che ero fuori allenamento, cioè schifo non l'ho fatto ma una volta ho sbagliato ah, minchia, tutto, Wares eh sì, ha stupere i pressi, wow eh, tutto il platforming che ha fatto ah, pure Enzo ah no, il platforming locked oh no, ho rubato se allora ho un dubbio ho un dubbio no, in realtà non ho rubala me, rubala me, rubala me a me, te lo dico io dai no, 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 no no, 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 in realtà ben pochi dubbi nooo volevo giusto controllare eh, vabbè, sta davanti a una stella e c'ha un tubo la mia vittoria su questo fail sia lontana eh, Wario Uzzo che zitto zitto con quelle 71 monete, mmm eh, ma guarda, ce la ruba me intanto, quindi è inutile che ti preoccupi infatti io volevo me la rubassi tu così lui poi non poteva rubarla a me ah, ok vabbè, intanto non ho soldi per la stella, adesso tirerò 400 sicuro mi guardo su chi però ma non so se ti convenga onestamente dai, un bel 10 invece ma perché te le ciri, scusa ma perché tanto io ho sempre sfiga Daki, non lo vedi, cioè è inutile pregare che succeda qualcosa di buono io sto gioco veramente, non me ne va bene uno, ecco poteva andarmi dei soldi, invece no, mi da un oggetto che ho già no, io è assurdo non è possibile essere così sfigati nella vita è pazzesco ho sempre fatto due a sta zona ho sempre fatto due a sta zona uh, se vinco questo posso prendermi data step no, ma non escono giochi di soldi? no, è vero qua era problematico, ma non è ancora uscito uno li abbiamo disattivati senza volerlo chi l'avrà costruita questa torre? perché queste domande si sentiamo? e chi starà lanciando questi spani? poi perchè siamo tutti qua poi, scusate ma no, non l'avevo tracciato oh madonna, non vedo dove sono no, ma cazzo crepa de santi, screpa ma non muore mai se c'avevi forza pure ho aspettato a saltare, non so perché che poi con la latenza online è un'idea a prova di proiettile proprio è che gli oggetti forti li ho già quindi c'è più di così non so cosa posso andarmi i soldi sarebbe carino stavolta ok ok va bene ecco giusto i'll take it arrivo scusate allora verde? mi sa di sì no no quella è dove se era verde è in culavi Ness eh lo so ma no Ness non ho io a me è in culavi vabbè a parte che ho tutti gli oggetti ah però devo tirare non posso fallire con Warat ha 100 monete comunque non è inciutto eh devo fare almeno 4 non oggetti di movimento Warat non mi serve quindi Warat sei in modalità in modalità new supermobile eccalà eccalà basta sti due no almeno io c'ho meno passi lasciami quello ti prego eh vabbè 7 vabbè meglio di niente su eh i turni sono veramente velocissimi su guarda in un minuto abbiamo eh quando Guarez non perde 3 ore a guardare la mappa è ovvio ecco gioco a monete l'avevamo chiamato si a Ness questo aiuta tanto questo è quello del dito medio si quando si gira esatto mi sa che voi tre fai aiuta tanto Ness ma se ci lasci qualcosa eh però non posso prendere ho quel sacchetto non fa il tempo quindi devi iniziare di eh dove l'ha messo dove l'ha messo allora qua si sta compenetrando nel muro va bene eh ci hai lasciato ben poco ma ce n'era uno che era dentro dentro un legno tipo tipo dentro basta non sono niente da salutare perché è Ducata invece che siete dei caffoni eh però manca po' eh però manca po' chance time lo sai si se vai eh si lo fai lo fai te la senti? si 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 oh no vuole prendersi i soldi di Warez oh no vuole i miei soldi Warez vabbè vabbè tanto era così raga cioè non vabbè scusa eh vabbè tanto andava così comunque non è non è vabbè a me non posso andare bene queste cose quindi va benissimo vabbè non può rubarmela mettiamola così non può rubarla è solo accelerato i tempi con quel chance time no però abbiamo avvicinato Wario alla vittoria perché mo' è messo veramente bene all'ennesima vittoria penso che nelle ultime partite l'ho presa in culo durissima dai chance time sempre così e tutto il male che ho fatto la sto punendo vuole farla ripolata Ah eccolo ah no vabbè Sento gli altri adesso faccio uno beccatevi vabbè due eravamo vicini su o cosa c'è cosa c'è si da che però è molto anticlimatica sta cosa torno 5 posto da una cervella mi sarò c'è la differenza ancora è proverda piace santa ma noi non mi sono presa solita la stella Oh giusto, cosa era da meshare? No, era quello dei cavalli 2 età, no, meshare 2 età No, no Ah, tu direi, no Ok Io non sto un bravo meshare, quindi godetevi la vittoria Il credercine Stava scivolando anche il dito A me stanno tremando anche i peli della barba A forza di meshare Però, Waretz sul meshing non penso che lo possa battere nessuno Eh, mamma mia Vedo che in Polpus è il blue, sì No, però sia a caso l'animazione qua Sì, quella a caso Nooo, mamma mia Eh, io ragazzi in mei 41 anni su questo si sentono Ah, c'è anche il troll del tuo ond qua Sì, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Oh, ma che oggettino Non è la Non è la... Non è la... Trova tipo la campana a vuoi così Ti può rubare la stella dove vuole Esatto Non c'è Se non me cade in acqua Oh, è questo mano sua Eh, non mano È vero che ci sono solo due turni Quindi Poca scelta Beh, finché la stella arrivado Effettivamente poi il bar posso usarlo è l'ultimo No, rubo la stella Però, ah, bene Vado a due Eh, qua mi serve a fare basso, ma vabbè Oh, kinesi 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 Eh, bunaardo, la sceglia Perché nella sto al tubo, però Può arrivarci quando vuole Vabbè prendo ad Haki perché non ha oggetti Quindi se tira alto salta la stella Vabbè ne aveva comunque Ma è perciò quelle che avevo preso Sulla fortunata adesso No perché sabotare Wards Non ha senso Ness comunque col tuo ha due turni Anche se andava sotto le venti Sì a lui l'avresti potuto danneggiare di più effettivamente Oioioi E' male perché se tiravi basso Se mi potevo guardare con te Eh vabbè Devo sperare che D'Akimeon resta lì Col prossimo tiro L'abbè fatto comunque Se l'avesse fatto Rai Ma sì Questa ha assolutamente senso Oh io sto abbastanza La chiss'è La chiss'è Ah però Questa è cattiva Questa è cattiva Perché mandare le bombane Nessuna più tubi Quindi Stelle sono finite lì Perché siamo tutti qua Non ci sono Warp dall'altra parte Ah infatti non conviene andare di là Perché ti interrasporti E invece Questo è quello del 6 Sembra Sì Quello che di notte dovevi andare su giù E' praticamente La missione Quella dell'albero Sì è simile al gioco di prima Però Preferisco questo un po' più interattivo Però facciamo cadere anche a questo Vediamo se Le platforming skills Di Warp Avranno la meglio Ah ecco Poi qua L'altezza di personaggio Sono un cazzo di gigante Mi sembra di avere sempre La testa attaccata a sti cose Cazzo di poco Dadaki Vabbè Sono contento Facevo schifo questo Non ho sbagliato uno Quindi Mi son contento Ah C'è preso il sonno Alvero Non c'è la stella Ahiaiaia Esatto È vero È vero 3 No è blu È perché c'è Bowser lì Ma chi doveva rubare una stella Una volta Bowser No No Neanche nell'originale Ti Mi confondo con quello stage di Mario Party Ah nel 6 sì Che girava Di Marcello Monello Che cosa combinerà? Eh può incularmi Guarda se vado da Kimeon Eccolo Eccolo E superalbum Incula Non va da me No ha preso me Eh sì ha vibrato me C'è un chance time però No non ci va Chissà che Bowser Ah no di uno No È però quella blu con lo Yoshi lì rilassato ragazzi Adesso spende 100 Ah e beh però Secondo me sì Eh ma tu potrei trasportarti di là No No sai cosa Non è per la stella Perché lui è terzo Potrebbe uscire in hit and bag All'ultimo turno adesso Vabbè Eh beh è una poss... Esce hit and bag Cazzo ne so E riesce la pistola E riesce la carta a blocco nascosto Prende una stella Poi tira bene Prende l'altra stella Va a 4 Da quanto ci sta mettendo Mi sta salendo fino a 100 Ma mi sa che non si può Sarà 99 il massimo Sta glitchando Ha fatto un numero palesemente a caso Ma poi perché? Lui ti dirà perché no Eccola la borsa Eccola Eccola E lui può prendere 3 hit Quindi c'è qualcosa di buono Credo No c'ha il warp contro il mio Eh ma lui gioca prima di... Ah è vero Eh ma se io adesso tiro male Se tiro male Si warpa su di me Eh vabbè raga No mi senti Non poteva non andare così Perché se ti scambiava il fun warrens Adesso lui lo fa dopo È vero Let's go Ma perché devo andare da warrens io no? Cioè Così sei dalla parte giusta Ma no Io devo rubare Non devo andare a prendere la stella Se vado a prendere la stella da warrens Devo fare 9 Figurati E poi 2 c'è il warp dopo Cioè io vado da Dachimeon Che devo fare almeno 3 Porco Dio E almeno ruba qualcosa E così non c'è più nessuno davanti al buo E lui si prende quella stella Vaffanculo Abbiatela Adesso peccato il fallimento della vita No Cosa ho detto? Cosa ho detto? No raga Non è possibile Non è possibile Non Vabbè Poteva andare peggio Poteva essere uno No era meglio perché almeno era un bonus Qua mi sa che non ho neanche le rosse Poi uno poteva essere bonus Bowser Evolution Poteva essere meglio Se mi scambio Ah vabbè assurdo Assurdo Non so cosa dire Cioè è vero che mi lamento sempre raga Però non è possibile Eh no tanto Warrens viene da me E ruba un'altra stella Sì è inutile Anche se mi scambiavo io Con successo Questo non l'ho mai fatto la sua E' un'altra stella che non pensavo che non pensavo che l'ondina mi uccidesse quindi stiamo aspettando all'eventuale stagione io infatti l'ho detto a cazzo no io ho lasciato del tempo si avvicinerà invece a rifarmi e che cazzo e che cazzo portugianne beh se lo fai è il bonus solo tu eh infatti che gran consolazione che non uscirà mai magari c'è tipo shuffle magari sarà le monete che fanno la differenza ma è ma contento chissà dove andrà e dopo tu fai il terzo spot o spuli di andare da warhead e ma lui tira dopo questo nes non è che sta fermo troppe cose l'ho detto comunque warhead va di là prende la borsa l'ho detto ed è successo prendi questo prognio devi starà dicendo si si starà tipo godendo come un matto eh guarda la finta suspense ma no ma no adesso fa disconnected mentre sta eh infatti in questi casi non si te le fate subito botta c'è adesso eh non lo sappiamo intanto va su di me oh eh questo rovina la partita nes però non si meritava questa cattiveria de santis cioè quando devi uccidere qualcuno uccidelo fino in fondo ma in realtà potrebbe essere la cosa che un pochino ribilancia il tutto perché lui comunque ha più monete di me e con bonus mi supera se io non ne prendo nessuno è ancora molto combattuta ah è l'ultimo pure figa cioè neanche scambi con me a warhead se vai al chance time eh sto pensando quello no devo fare 9-10 non mi fido assolutamente che succeda una cosa del genere e quindi faccio cerco il chance time anzi siamo tutti di davanti con me ok no niente vabbè bello vabbè io non ti dispi no raga no ma veramente io non so cosa dire ma che cazzo vabbè l'uso tanto per questo wow oh no no pure cioè l'umiliazione finale ragazzi non ho parole non ho parole eh deboli monete pure un gioco che non c'entra un cazzo quindi non posso picchiarlo con sti remi aspetta anche questo l'ho giocato pochissime volte si ma tanto io sono con The Santis Nets cioè è come se c'è parolimpiadi ok quindi ok ok bene The Santis vai 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 si ottimo bisogna sempre guardare dove è rivolto lui perché tira nella direzione ok quella moneta non è una po' più nella direzione buono buono eh tira il remo in testa eh lo vorrei volevo se c'era una mossa che lo facevi l'avrei fatto per 30 secondi eh guardo eh questo penso no mi so io io si eh allora il due fremete eh no è guardo ma qui si è disponeso no così così cioè vabbè vabbè pensavo avessi tipo 5 stelle dopo questa verdi e Ness Ness eh quindi ho vinto a Waren no mi sta che a lui per le stelle per le monete forse si è vero io ultimo com'è possibile scusa eh siamo tutti pari di stelle mi sta capendo qua oh god oh god cazzo minchia The Santis lo sapeva The Santis è fuggito però perché lo sapeva godo godo cazzo non so come ragazzi che cazzo sta partendo ma te l'ho detto che ti sei lamentato tutto il tempo eh vabbè ma però hai visto Daki non puoi dire che mi fossero stessero andando bene le cose figa lo so così impara a rubare la stella a casa e non a te ti ha rubata a me vabbè vabbè ma io come fanno arrivare ultimo che ero favoritissimo eh ma adesso siamo tutti vedi tutti monete monete 69 pure raga benedetto delle 69 madonna io che forse avrei avuto di bonus niente praticamente ne avevi insegnati pochi effetti avevi i bowser sì io ne avevo ne avevo diversi però avevo poche stelle quindi non è che ci contassi tantissimo avevi pochi passi più grosse eh passi sì però neanche di tanto 97 ah gli eventi ce li avevo io e l'hai appena vinta nè sì sì 20 sì era ovvio ne hai fatti tanti madonna no godo perché ho battuto Santis mamma mia cioè veramente dopo tutte le cattiverie e le ingiustizie che ho subito se non mi avesse rubato la stella avrei vinto io perché sarei stato a fuoco è vero ecco quella è un'altra cattiveria che adesso voleva vincere sta pista effettivamente del Santis fa solo danni fa solo danni figa ma falle queste robe falle quando sei inizio c'ho il chat vocale ah i die eh vabbè 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 raga comunque è è vero mi scuso per la mentele però non avrei mai pensato di vincere cioè neanche in un milione di anni questo dimostra che sto gioco veramente una delle cose più random possibile bello come non segna Juarez tra chi ha ottenuto i giocatori no Juarez è ancora a livello 1 forse non ha finito una partita ma falle quella 12 eh sì sì